Cellularemagazine.it, sono Stefano Cavallaro, sono allo stand di LG, qui al Mobile World Congress e abbiamo davvero una novità succulenta, una cosa un po' da laboratorio, infatti abbiamo un G-Flex smontato e qui possiamo vedere il display flessibile che è all'interno e questo invece è il telefono a cui è collegato per cui noi toccheremo il telefono e voi vedrete che tutto comparirà invece sul display, l'interfaccia grafica sarà sul display guardiamo se riusciamo, con il knock on, eccoci qua, per cui adesso noi cosa facciamo? ci spostiamo così e possiamo vedere le funzioni, quello che c'è di bello è naturalmente il fatto che così possiamo farvi vedere che questo display inserito in un telefono curvo e un po' flessibile, in realtà è molto molto flessibile può essere piegato come vogliamo, dobbiamo fare solo attenzione a non toccare questa parte dove ci sono i contatti vedete? adesso se lo spacchiamo gli ingegneri si arrabbia, speriamo di no comunque insomma può essere piegato come vogliamo e questa tecnologia sarà adottata entro il 2018 nel 40% dei modelli che arriveranno sul mercato così ci hanno detto gli ingegneri di LG che sono qui con noi che ci danno questa possibilità in esclusiva guardiamo se riusciamo insomma è tutto perfettamente funzionante guardate, vediamo se riusciamo è sottilissimo, meno di un millimetro insomma è una bella comodità quando saranno tutti così ci potremmo mettere in tasca e saremo sicuri che non si rompono già questo non si rompe di solo va bene, per il momento è tutto grazie per essere stati con noi ci vediamo al prossimo video